Sicuramente la musica jazz era una musica molto difficile per le donne, infatti siamo sempre state molto meno, probabilmente questo proviene anche da un percorso culturale, le donne in generale prima non lavoravano, figuriamoci in una musica che nasce comunque in America nei jazz club di notte, quindi in posti e locali non forse prettamente femminili. Per me personalmente ho avuto sempre la fortuna, forse anche la stima e il rispetto da parte dei musicisti, semplicemente perché appunto la musica poi secondo me non ha sesso, questa è la cosa bella, è un linguaggio, è un modo di esprimere le emozioni, quindi uomo o donna è uguale. Una volta scrissero un articolo per farmi un complimento, l'articolo era che brava suona bene come un uomo.